Musica 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 sarei solo un personaggio e non quello che sono, cioè Marco ogni mia rima ti brucia quanto il corpo di Giovanna d'Arco e stare nulla senza un buon amico a fianco e vi ringrazio dal momento in cui vi ho incontrato Bella Gix o Bella Riz, uniti sempre come sul Brit vi schiacciamo in testa come il Dream Team L'ho spiegato in sto testo, è afferrato in contesto cambino un gesto, chi l'avebbe detto, te lo sei mai chiesto Scrivo e mantengo il presente, vivo e non sono cosciente seguo il percorso imminente, sì perché sono impaziente L'ho spiegato in sto testo, è afferrato in contesto cambino un gesto, chi l'avebbe detto, te lo sei mai chiesto rappresentiamo l'anima, nel giro facciamo male come una bomba nucleare, contati sull'aria e rasparamo l'aria Guarda adesso come va, segui sempre la tua strada questo è il consiglio, e tutta questa è la realtà segui sempre la tua strada Per la gente che mi rappresenta, ciccio presente in alto l'indice 71, 0, 15 in testa in alto 2011 pensaci, puntaci, pizzi che all'impegno manca tanta fanta poca bamba, catta, canta chi se l'aspettava sto futuro dinamico quando all'inizio sembrava drammatico tanto che dissi non inizio nemmeno qua vedo nero ed è vero che tra qualcuno non sono nessuno ma sincero con i miei fratelli abbiamo sempre questa regola cioè che non siamo perfetti e non abbiamo l'oleola quindi avanti lo stesso io no, un po' mi è successo mai su c'è se lo stesso sono sempre me stesso con impegno a voglia e pure amore per il rezzo con chi snap, per il pop, in the pop, in the flow, in the top for the block, io non mi blocco né blocco mentale non lo tocco, che fa male, bel finale e lo spiega a questo testo, è afferrato il contesto cambi in un gesto, gira a te per detto, te lo sei ben chiesto scrivo e mantengo il presente, vivo il sogno cosciente seguo il percorso imminente, sì perché sono impaziente e lo spiega a questo testo, è afferrato il contesto cambi in un gesto, gira a te per detto, te lo sei ben chiesto ma l'anima, l'angerva c'è ma mande come la bomba nuclea, rogondati sull'area era spera malaria ciao ciao Grazie a tutti.